E poi ci sono loro, Luke, Eva, Benny e Sam. Sono dei supereroi. Iron Fist, White Tiger. No, 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 no. Senso di ragno, giù! No! Se Black e Harry sono qui, ci sarà anche Danny a proteggerli. È dietro di noi! Continua a correre! Calma e gesso, ragazzi, calma e... Attenti! Danny! Mettetevi in salvo! Vai! Che tecnica! Anni di studio a Canlan. Anni per te, secondi per me. Chi è stato ad insegnarti quella mossa? Sei stato tu e non soltanto quella... Sei stato bravo, ragazzo, ma non è te che sto cercando. Eccoli! Ci sta inseguendo ancora! Non lo voglio sapere! Chi di voi si trasformerà in Spider-Man? Prima che qualcun altro si faccia del male. Sono in pericolo! Ecco il momento per cui ti sei allenato tanto. Ah, già è vero, non ti sei mai allenato. Flash! Non lasciarmi qui! È vero che sono il più forte della scuola, ma non sono Spider-Man! Tu non lo sei di certo. Vieni fuori, ragno! È il tuo momento! Flash è nel tuo armadietto. Qual è il piano? Non muovere un muscolo. Lasciagli fare quel che vuole con Flash. E poi... Mi trovo d'accordo. Flash merita una pulizione. E poi... Potresti... Solo Flash riesce a mettere d'accordo questi due. Non muovere un muscolo.